in piano con quello davanti quando quando vedi che non hai i sassi cosa no in salita no vai che ti sfraccerete fino mentre ti sfraccerete credici che la frattura è con te la frattura è con te di stare indietro non seduto bravo il problema è partire anche io da fermo è duro vale vai qua è scorrevole basta che non finisci giù nel buco mola sti freni che è dritta mola 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 Grazie a tutti. 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 Ale. Ale è duro. vai che ce l'hai un cavallo un cavallo un cavallo un cavallo un cavallo un cavallo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.